dei feriti, degli sbarcati, abbiamo salvato vite, abbiamo protetto il paese, a differenza di quello che è accaduto dopo, perché dopo di me sì, sono stati morti, sono stati annegati, sono stati diritti negati. Arrivare in Italia è un diritto che richiede, nel rispetto di alcune regole, come in tutti gli altri paesi al mondo, mi spiace solo di impegnare tempo di giudici, avvocati, agenti, che di solito ospita processi di mafia, io sono in questa auta, come tutti i cittadini italiani rispettoso di quello che la giustizia richiede, per rispondere di quello che avevo promesso agli italiani di fare, ovvero sia combattere gli scartisti, di migrazione grandissima, senza far male a nessuno, il governo che ha seguito ha continuato sulla stessa rotta, quindi sono curioso di sentire cosa dicono oggi, con i denti, la presta, che diranno Conte, Di Maio e tutti gli altri ministri che con me condivideranno questa scelta di civiltà. Salvini, in queste ore il governo sta aprendo ai comuni, praticamente al Natale, anche sotto sospita... La tutela della salute è fondamentale, nessuno vuole assembramenti, festoni, veglioni, cene con 200 persone, trenini o cose strane, ma ho il diritto alla famiglia, il diritto all'affetto, sicuro, protetto, di paese in paese, poter portare una fetta di panettone e un sorriso a un anziano solo, a una persona sola nel paese di fianco, non mette a rischio la salute di nessuno, ma scalda i cuori. Siccome l'Italia è la capitale mondiale del volontariato, io vorrei che anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno, le splendide associazioni di volontariato possessero fare la loro missione di carità, senza confini, senza chiusure, senza divisioni, quindi si è soggetto al governo, ci ascolta e cambia idea e sono felice.